Il mio incontro con Michelangelo lo devo soprattutto alla speriologia, alle grotte. Le grotte sono un mondo che cementa l'amicizia e che fa nascere anche nuove conoscenze, nuovi progetti. Io conosco da molti anni Giovanna Giuliani, che è la co-sceneggiatrice del film. Insieme siamo andati in giro per montagne, per grotte e anche tramite lei ho conosciuto Michelangelo e mi sono appassionato al suo progetto, che all'inizio sembrava una follia raccontare questa esplorazione che nel 1961 ha portato dei giovanissimi speleologi torinesi a esplorare l'abisso del bifurto. Sembrava una follia ma lui è stato capace di realizzarla. Io ho avuto il privilegio, l'onore di trovarmi lì con la mia macchina fotografica a documentare questa avventura. La mia esperienza di speleologo mi ha portato a documentare grotte a volte anche spettacolari, complesse, anche grotte esteticamente incredibili in vari continenti. Quindi pensavo di essere già preparato ad affrontare un'esperienza di documentazione come questa. Devo dire che ho vissuto a mia volta una esplorazione, è stata una prima volta per me, perché fotografare sul set di un film di finzione come questo, un film che racconta una storia vera, ma un film a soggetto, un film in costume, con degli attori, è stata un'esperienza nuova per me. La dimestichezza, la confidenza che ho con la speleologia e con le grotte mi hanno consentito di lavorare rilassato, almeno su quel fronte, ma dovevo innanzitutto non intralciare le riprese, il mio compito era quello di fotografare le scene, ma anche il dietro le quinte. E quindi è stata, diciamo, da una parte un'esperienza nuova, dall'altra un grande privilegio, perché ho potuto muovermi, anche nelle situazioni in cui la troupe era ingessata, perché era legata, ad esempio, alle riprese in grotta, quando il direttore della fotografia, Renato Berta, era all'esterno, tra loro comunicavano tramite un cavo in fibra ottica, io ero praticamente l'unico libero di spaziare tra il dentro e il fuori, quindi potevo vedere questa doppia dimensione, del sopra e del sotto, spostandomi più o meno a piacere. Un aspetto che mi ha sempre affascinato della speleologia è la luce, che nel momento in cui entra nel buio disegna per la prima volta un luogo, ma non è solo questo il grande fascino per me. E' che quando noi entriamo in grotta e la illuminiamo, la distruggiamo, per certi versi, cioè distruggiamo l'ignoto. Dante Alighieri lo chiamava color bruno, e il color bruno è quella fascia che il fuoco, mentre brucia la carta, avanza, illumina il foglio, ci consente di leggerlo, ma lo distrugge anche. Quindi fotografare una grotta, illuminarla per la prima volta, è un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità. Grazie. 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 Grazie.